Buongiorno e benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, domenica 19 agosto. Vediamo velocemente quali sono i temi dei giornali di oggi. Ovviamente in questi ultimi giorni mi sto concentrando sul tema fondamentale, non solo perché siamo ad agosto, ma perché la tragedia, come qualcuno dice, del Ponte Morandi è la tragedia di un'Italia simile a quella che potrebbe rappresentare addirittura, non esagero, l'11 settembre, qualcuno dice, per gli Stati Uniti. Comunque qualche cosa cambia. La giornata di ieri è stata quella dei funerali di Stato, che ha riguardato soltanto una parte delle 43 vittime, ce ne sono forse altre che sono ancora lì sotto le macerie e lì il Corriere titola Il dolore e le polemiche. Il punto fondamentale che ci può interessare a noi in questa zuppa di porro ovviamente sono soltanto le polemiche, il dolore lo diamo per acquisito e le polemiche nascono non tanto sulla questione, diciamo, Benetton, di cui parleremo in un secondo capitolo dei giornali di oggi ovviamente, ma sul fatto che ci sarebbero, ci sono stati degli applausi rivolti a Salvini e a Di Maio quando sono entrati in questa struttura, non una chiesa, in questa enorme struttura dove c'è la grande popolazione, grande affluenza di genovesi e non solo, e invece ci sono stati dei fischi minori, ovviamente il fischio però c'è stato, nei confronti della Pinotti e Martina, esponenti del PD che si sono presentati al funerale. Allora, e su questo ovviamente tutti quanti gli opinionisti parlano e scrivono oggi gli applausi, che è una cosa disgustosa, questo è il mio punto di vista, gli applausi nei confronti di Berlusconi quando ci fu nel 2008 il terremoto dell'Aquila, nei confronti di Salvini ieri, nei confronti anche delle bare bianche, per me l'applausi in chiesa è una cosa disgustosa, ma è un piccolo aspetto personale che riguarda chiunque applaude in chiesa e non soltanto, voglio dire, i politici come in questo caso, ma il punto fondamentale è che c'è stato un applauso nei confronti della politica, che non è una cosa usuale nelle tragedie di Stato. Si interroga su questo Polito, sul Corriere della Sera, che dice che in realtà è quello che dimostra quell'applauso che è rivolto anche al Presidente della Repubblica Mattarella, è un filo forte che lega il popolo e le istituzioni, cioè sono uniti, non sembrano in contrasto e completamente diverso rispetto a quello che avvenne, tutti quanti oggi lo citano, l'indomani della morte di Falcone e Borsellino, vi ricorderete quel funerale in Sicilia in cui tutti, Scalfra, addirittura Presidente della Repubblica, lo citava oggi qualcuno, fu difesa addirittura dal PM a Iala per gli insulti che ricevette in quella chiesa siciliana. Per Polito quindi paghia la vecchia politica, dice attenzione perché comunque questa cosa ha riguardato anche Berlusconi e poi si è visto che comunque Berlusconi ha perso quel consenso popolare, sta parlando del 2008 all'Aquila, anche se il concetto del fatto che è la vecchia politica che paga c'è fino a un certo punto perché Mattarella certo non si può definire un innovatore della politica degli ultimi anni. Travaglio parte con il piede giusto sul fatto che il fondo di Travaglio è, qualcuno dice anche io avrei, ormai gli applausi sono diventati una consuetudine purtroppo, anche io avrei applaudito il popolo è populista ed è giusto quello che fa, ma comunque Travaglio dice anche a lui non piacciono gli applausi sguaiati in chiesa. Fatta questa premessa Travaglio dice bene però gli italiani che si riconnettono, un po' dice la stessa cosa con Polito, si riconnettono alle istituzioni e lui nota che ovviamente hanno applaudito anche Mattarella, tra l'altro Mattarella quello che fu oggetto degli insulti, dei fischi peggiori del popolo della rete quando non volle mettere come ministro dell'economia Savona, vi ricorderete. Il popolo è un po' volubile, questo bisogna forse ricordarlo, gli applausi diventano spesso critiche dopo poco tempo, ma comunque questa piccola considerazione me la tengo per me e la vedremo nel futuro quanto dureranno gli applausi. Io sarei molto attento agli applausi come doveva essere Lorenzi quando al 40% sembrava essere il re d'Italia e poi dopo pochi mesi ha ceduto. Ma l'altra cosa sostanzialmente molto interessante che dice secondo me Travaglio oggi sul fatto è che state attenti perché se invece di 70 giorni fossero stati 7 mesi di governo forse ci sarebbero stati minori applausi da parte del popolo a corso in quella chiesa. Cioè fate, dice il Movimento 5 Stelle, faccia meno stupidate e dice Travaglio la Lega sia meno xenofoba. Questi sono i due punti di vista di Travaglio sugli applausi. Gervasoni sul messaggero commenta anche lui l'applausi, dice anche in questo caso attenzione alle vostre promesse perché le promesse oggi vi portano gli applausi ma domani quando le cose non le fate possono diventare fischi e questo ci sta. Diverso il punto di vista forse unico, originale in questo senso di Sallusti che invece è molto critico nei confronti di questi applausi, non già perché non riconosce il fatto che il governo si sia mosso con il piede giusto sulla questione dell'incidente, ma perché nota un particolare che forse altri non hanno notato con tante evidenze, cioè il particolare che Rocco Casalino, il portavoce di Conte, cioè il Presidente del Consiglio, avrebbe, anzi ha mandato un sms a tutti i giornalisti per sottolineare gli applausi e dire voglio vedere se domani sui giornali lo scrivete quanti applausi ha avuto il governo. E Sallusti bolla questo atteggiamento del portavoce del Presidente del Consiglio dicendo questo è il grande fratello dal quale peraltro Casalino viene. Questa è la pagina degli applausi del funerale di Genova. Dalla pagina degli applausi passiamo invece alla pagina dei Benetton che ieri fanno una conferenza stampa in cui chiedono scusa e offrono la ricostruzione del viadotto in otto mesi in ferro e un risarcimento di 500 milioni. Una serie di interviste a molti esponenti della Lega, soprattutto della Lega oggi sui giornali dicono che questo è un risarcimento, è il dovuto, è il minimo che loro possano dare e il fatto definisce queste finte scuse lacrime di coccodrillo, invece sono definite quelle della famiglia Benetton da Mario Giordano sulla verità che dice quelli stavano e tira fuori tutta la vicenda che stavano facendo questa festa a Cortina il 15 di agosto, che hanno chiesto scusa dopo quattro giorni, tutti gli errori di comunicazione innegabili e ridicoli che questi cazzoni della comunicazione di Benetton sono riusciti a fare e inanellare uno dietro l'altro come se poi il problema fosse quello della comunicazione. Obiettivamente un pochino più di empatia l'avrebbero potuta dimostrare gli stessi che invece erano così empatici nei confronti degli immigrati che vengono in Italia, dei grandi problemi sociali, delle disuguaglianze del mondo, dei colori, delle razze, del genere eccetera, empatici con tutto il mondo, un pochino meno empatici sul fatto che un ponte da loro controllato e gestito cada e uccida 40 persone, insomma la logica è molto chiara su questo, però la logica ferrea, economica, stretta e tecnica è che questi Benetton che abbiamo già condannato senza processo hanno offerto 500 milioni in un nuovo viadotto, bene, il governo nel frattempo che cosa offre? 28 milioni e dice in un'intervista che ha fatto Giorgetti oggi al Messaggero beh dovremmo chiedere la rivisitazione dei vincoli UE in maniera tale che si possa procedere a nuovi interventi di ristrutturazione in Italia, allora io per un governo che non ha molti soldi e soprattutto se dovesse avere dei soldi li dovrebbe chiedere a noi contribuenti nel senso che i soldi dello Stato non è che arrivano da Babbo Natale ma arrivano dalle nostre tasse, bene, insomma io sarei un pochino meno, come posso dire, snob sui 500 milioni che mi dà e sulla ricostruzione del ponte che mi dà Benetton, non si tratta, Di Maio gli ha risposto non accettiamo le mance, una cosa di questo tipo, io accetterei questa mancia anche perché se permettete, se non accetto la mancia di Benetton che poi dopo processo, poi gli tolgo la concessione, poi gli faccio pagare tante altre cose, ma io questa mancia non fare tanto il fenomeno perché fa il fenomeno con i cazzi miei, con i soldi miei, con le tasse mie, perché è vero che l'Europa può dare maggiori svincoli di bilancio ma quando l'Europa permetterà all'Italia di fare tutti i ponti di questo mondo, quei ponti di questo mondo non vengono fatti pagando le aziende che fanno quei ponti, gli appalti che fanno quei ponti con i bruscolini, ma con i soldi delle mie tasse, quindi intanto prendiamoci i soldi che hanno guadagnato i Benetton per rifarci con 500 milioni quello che si deve rifare e non la consideriamo una mancia, quindi andiamo a un anticipo di un risarcimento che poi potrà essere, se la magistratura dovesse verificarlo, anche più grande, chiaro? Bene, nel frattempo il governo quanto gli ha dato? 28 milioni, quelli te ne danno 500 subito, zitto, muto, poi magari te ne prendi anche 2 miliardi, ma mi sembra un atteggiamento pragmatico molto banale, ma evidentemente invece qui quello che fa premio è l'applauso, il grande fratello, io farei sia l'applauso sia quell'altro, quando vedo invece Giorgetti oggi che mi dice che ad esempio la TAV deve essere ridimensionata mi cadono le braccia e capisco che ormai la cosa è andata, cioè l'Italia del progresso, quella dell'Italia che vuole costruire eccetera, quella che non si ferma a quello che abbiamo fatto negli anni 70, ce la siamo giocata, 8 chilometri di tubo, la TAP, 8 chilometri di tubo sotterrato, invece per lui vanno bene e ci mancherebbe altro. Rixi invece, sottosegretario alle infrastrutture, mi sembra sempre della Lega, che cosa dice oggi in un'intervista? Si farà anche la gronda, allora mi viene da ridere perché cosa c'è? È dovuto cadere un ponte per convincere il Movimento 5 Stelle che la gronda è necessaria? È vero che non è stato solo il Movimento 5 Stelle a non volerla a Genova, anche se è stato il partito più forte contro la gronda oltre al PD di Burlando dell'epoca, però insomma ognuno si assuma le sue responsabilità. Molto buona l'intervista al sindaco di Genova Bucci, Marco Bucci oggi, che dice due o tre cose, la prima è che non è nel suo DNA costituirsi parte civile, cioè in realtà ragazzi che lo Stato faccia la causa, prenda i soldi che deve prendere e vadano in galera quello che vadano in galera, un sovrappiù di visibilità diciamo manettara, questo Bucci non la vuole avere, grandissimo Bucci, in questo momento mi sembra meno alla ricerca dell'applauso, più alla ricerca di una soluzione e ne trova due, la prima dice ragazzi smettete di fare i pessimisti sulla logistica di Genova dicendo che è una catastrofe, perché stiamo mettendo le cose a posto, nei limiti del possibile, perché i porti di Genova e di Savona funzionano a pieno regime, grande sindaco di Genova, questo è il compito di un amministratore, meno applausi e più ricerca di una soluzione per i cittadini che da dopo domani, come avvenne per il terremoto, sono fottuti perché sono tutti bravi a andare lì nel giorno del terremoto, due giorni di funerale eccetera, e dopo il problema, non il durante, seconda cosa che dice, niente più case sotto al ponte ricostruito, ultime due questioni che vi segnalo, una è la polemica, mini polemica che qualcuno cita se non altro con una foto di Salvini che si fa fare un selfie da una delle persone che stavano lì al funerale, lì il tema secondo me non è Salvini che si fa il selfie, il problema è che c'è un cretino, e questo è il vero grande fratello, o una cretina che va a un funerale di 40 persone e invece di stare lì a pregare, a piangere, a ricordare, a commuoversi, che cosa pensa col suo cazzo di telefonino di farsi un selfie? Certo poi il ministro subisce il selfie, non le dice vada a quel paese come avrebbe dovuto fare, fa parte diciamo di una cortesia istituzionale che le persone normali hanno, se a me mi trovano e mi chiedono mi fai un selfie all'interno di una chiesa, dice Salvini che faccio, la mando a quel paese, ovviamente lui probabilmente non lo può fare, ma permettetemi a me di dire che il problema non è Salvini che si fa il selfie con tutta la polemica che ha avuto nei confronti di un rapper che ha detto si è pubblicato il selfie, poteva evitare, ma il problema è che la gente va in chiesa per farsi i selfie, ecco questo secondo me è ridicolo, questa Italia di merda per la quale oggi applaude è quella che oggi si fa il selfie con Salvini, niente di più facile che fra 20 giorni, un mese, due mesi, quando gli avranno tagliato la pensione, quando il figlio non sarà stato assunto le poste, quando l'avrà licenziata Amazon, quando non gli sarà arrivata la bolletta di Telecom corretta, inizierà a dire che questo governo fa schifo perché la colpa è sempre della politica che peraltro se le vuole prendere posto che come vediamo oggi sui giornali Corriere Veneto, Corriere del Nord Est, beh insomma cosa sta succedendo? Succede una cosa molto semplice, quello che paventavamo nei giorni scorsi oggi lo scrivo sul giornale, cioè siamo attenti con questo nuovo vento perché quello che fa il privato fa tutto schifo, quello che fa il pubblico invece è tutto buono e quindi siccome il privato ha commesso un errore tramento, drammatico, tragico con le morti, allora facciamo gestire tutto al pubblico, oggi io scrivo quali sono gli effetti collaterali di fare gestire il pubblico ma neanche scrivevo questo pezzo oggi sul giornale che leggo sul Corriere del Nord Est che Zaia, il governatore del Veneto, sta pensando insieme con i suoi colleghi del Trentino e penso del Friuli Venezia Giulia, di Trento e Bolzano pure le province autonome di farsi le autostrade del Nord Est, quindi facendole gestire alle regioni. Bene, immaginiamo già, forse non ha anche un senso, le autostrade del Nord Est, poi le autostrade del centro, poi però arriviamo alle autostrade del Sud, poi arriviamo alle autostrade della Sicilia, poi arriviamo alle autostrade della Sardegna, tutte gestite dalle singole regioni, oppure come dico io nel pezzo, le facciamo gestire tutte a Roma, sentito il Consiglio di Stato, con il parere della conferenza Stato-Regioni, con gli appalti del Codice Appalti, come iniziamo con i soldi a fare prima al Sud, prima al Nord, il viadotto di Cosenza, ecco questo è il campo in cui noi tra poco ci troveremo per colpa di questo ponte e per queste morti drammatiche che ancora non stiamo piangendo sufficientemente con il silenzio ma con l'applauso e con i selvi. Sul sito nicolaporro.it il pezzo mio di oggi e tutti gli altri aggiornamenti sulla drammatica situazione di Genova. Un saluto a tutti quanti, ciao, buona domenica.